Ciao a tutti! Nel video di oggi, Vittoria fa un regalino al fratellino Leone, regalandogli una marmellata, che però lui non apprezza. Poi, Vittoria non vuole tornare a Milano e lasciare la vacanza. Vi lascio al video. Buona visione! Abbiamo preso due marmellatine, una per Vitto e una per? E' una per EO! Tieni EO, ti ha preso una marmellatina. Ma come si dice? Grazie! Dimelo avanti tu, Vitto! Devi metterla su qua! Wow, amore! Gira lì, amore! Così! Esatto! No! No! Sono sempre al contrario, amore, devi girarli! Girarli? Sì, devi girarli! Così, così! Esatto! Così, così, così! Brava! Wow! Ma sei Lady Gaga? Sì! Sei Lady Gaga? E adesso? Una uglia! Ti? È un uglia! Ti? È un uglia! Uglia! Che ciuccio, amore! Dobbiamo andare noi, che ciuccio! orecchietta! È un'orecchietta! No, amore, no, no! Non è un'orecchietta vera, è un'orecchietta, si chiama orecchietta, no? Dobbiamo andare a cantare, ragazzi! E il papà deve cantare! Dì, siamo in ritardo! Bravo papà, bravo! Of só te sai io! Oieccietta! Ciao, ciao!